L'oroscopo è offerto da Centro Revisioni Florio Calanza Buongiorno e benvenuti all'oroscopo di Fiorus TV. Ariete, ricominciare la giornata ogni mattina per voi è una fatica, soprattutto pensare di rientrare al lavoro. Forse è il momento giusto per cambiare e far tornare in voi la carica per un nuovo inizio? Toro, la giornata di oggi vi suggerisce di evitare rischi e azzardi. Cercate di non agire di pancia e siate molto riflessivi, facendo attenzione. Non dovreste far danni con le vostre scelte. Gemelli, vi sentite pieni di vitalità. È il momento giusto per portare avanti i progetti, soprattutto lavorativi. La sfera sentimentale è favorita, soprattutto stasera. I rapporti di coppia vanno bene e potreste organizzare qualcosa di speciale. Cancro, dovete lasciarvi alle spalle giornate sotto tono e concentrarvi a tutto ciò che sta arrivando. Sono grandi cose e tante soddisfazioni quelle che si vedono all'orizzonte. Leone, oggi potreste essere leggermente aggressivi, leggermente. Sarebbe preferibile evitare di concludere accordi in questa giornata o affrontare quelle questioni che vi portate dietro da un po'. Prendetevi la giornata per pensare solo a voi. Vergine, ci sono buone probabilità che dei vostri piani possono concludersi favorevolmente. La sfera sentimentale, anche lei, è favorevole stasera e potrebbe regalarvi grandi sorprese. Bilancia, oggi siete un po' intolleranti a tutto il mondo. Preferite isolarvi e trovare il modo di risolvere. Magari dovreste farvi un esame di coscienza e dar più peso ai vostri pensieri e alle vostre parole. Scorpione, la giornata di oggi potrebbe mettervi a dura prova, per cui sarebbe preferibile mantenere un basso profilo ed evitare polemiche inutili, soprattutto a lavoro. Sono effetti passeggeri di periodi stressanti, tranquilli, passeranno. Sagittario, è fondamentale per voi in questo momento tagliare con tutto ciò che non ne vale la pena. Dovete putare i rami per far rimigorire l'albero. Capricorno, dovete essere pacati oggi, soprattutto a lavoro. Diciamo forse che dovete essere oggi ovunque e con chiunque. Siete calmi e non fatevi prendere troppo da ire funesse. Acquario, siete pieni di energia e pronti a qualsiasi nuova avventura. Praticamente un nuovo episodio di Jumanji con The Rock e Jack Black. Siete carichi e vi sentite pronti davvero a tutto. E lo siete. Sfruttate questo momento per fare le cose che vi trascinate dietro da giorni. Pesci, la fantasia e la speranza non vi stanno abbandonando in questo periodo, soprattutto nella sfera sentimentale che vi vede sereni e allegri. Finalmente, godetevela. Grazie, ci vediamo all'Oroscopo di domani.